Il nostro mondo non ha mai affrontato una minaccia come quella di oggi. Ma non puoi combattere questa guerra da solo, signor Potter. Lui è troppo forte. Abbiamo infiltrato il ministero. Non avete nulla da temere se non avete nulla da nascondere. Più a lungo restiamo qui, più forte lui diventa. Devo essere io a uccidere Harry Potter. Via delle strade in un posto sicuro. Trasformiamoci in Harry Potter prima che qualcuno ti uccida. Così non sapranno che lei è il vero Harry Potter. Arrivano. Arrivano. Harry, scappa! Corri! Leggiti, Harry! Nessun altro morirà. Non per me. Dobbiamo fare qualcosa. Credi che non sappia cosa si prova? No, non sai cosa si prova. I tuoi genitori sono morti, tu non hai una famiglia. Fermi! Ti dà la caccia, signor Potter. Dimmi dov'è. Non ce la puoi fare. Non vedo! Aiutatemi. Ho visto il tuo cuore. Ed è mio. Ero. 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 Engwu. Grazie a tutti.